Tutti noi siamo una start-up innovativa neonata, quindi siamo attivi solo da un paio di mesi, ma ci siamo strutturati facendoci ospitare in una zona del co-working ping, montando quella che è la tecnologia che abbiamo reso disponibile. Realtà virtuale, pedane per avere esperienze ancora più immersive. Proponiamo un'apertura al pubblico per l'ambito gioco, perché la tecnologia si è sviluppata in questa direzione molto, molto rapido, ma il nostro obiettivo aziendale è quello di utilizzare tecnologie legate alla realtà virtuale e alla realtà aumentata in ambito aziendale. Quali sono gli ambiti aziendali, quindi industriali, nei quali la vostra tecnologia può trovare applicazione? Come tipo di tecnologia è molto versatile ed utile. La nostra missione è molto legata alla formazione e all'addestramento del personale, che attraverso questa tecnologia può essere più rapido, più veloce, più performante nei lavori che fa. Poi si va dalla progettazione, alla vendita, alla promozione marketing, il training, l'assistenza post vendita, in cui con l'ausilio di dispositivi di realtà aumentata, per esempio, si danno assistenze fortemente evolute, oppure l'addestramento e la formazione in realtà virtuale. In ambito ludico invece abbiamo provato e possiamo garantire che l'esperienza è totalmente immersiva, quindi non sottovaluterei questo aspetto. No, anzi, provare e vedere di che cosa stiamo parlando fa la differenza, descrivere non è così semplice, perché noi, quando indossiamo un casco, un visore, siamo completamente presenti in un mondo virtuale, quindi viviamo un'esperienza vera, reale, in un mondo virtuale. Ovviamente l'ambito ludico, nel tuo caso, l'abbiamo declinato sui tuoi gusti, ma le esperienze che si possono vivere sono le più variegate, per grandi, per piccini, giochi più interattivi legati alla difesa di fortini, alla spazio, a cose di questo genere, piuttosto che invece passeggiate in mondi non reali, ma ricostruiti. Marte, la Luna, la Savana, l'Artico e tante altre cose. E quindi l'appuntamento è per sabato? Sì, sabato abbiamo la nostra apertura ufficiale, da sabato saremo presenti qui con orari e apertura, soprattutto legate al weekend, disponibili per tutti coloro che vorranno giocare. Grazie mille.